Ehm, ciao! Oggi siamo trovati in un nuovissimo video su Minecraft e questo oggi ci siamo insieme a... Oggi non lo faccio, amici, mi spiace, non mi frega nulla di te. Ma perché tu non sei loco, tu sei Steve. Chi sei? Perché sei qua? Come sei arrivato qua? Dove hai messo loco? Dove hai messo loco? Dimmi dove l'hai messo? Dove l'hai nascosto? L'ho messo di là. È lui loco, è la verità. È lui loco? È questo qua loco? No, loco non è così bello, mi spiace. Ok. Nel nostro obiettivo quest'oggi sarà quello di rubare gli amanti in queste case super segrete. L'ho messo loco sarà tipo la spalla dei piani, quello che sta fuori e controlla. Guarda, ti faccio vedere, vieni qua, vieni qua, ti faccio vedere la prima è qua dove c'è il bulldozer. Aspetta un momento che si carichi il livello. Questa è la casa? Questa è casa di Jimmy. Questa è la casa? No, quella è una... Non posso andare oltre. Guarda, vieni qua, ti spiego. Qua c'è scritto che dobbiamo trovarli tre parti per costruire il bulldozer per entrare all'interno di... È tornato, è vero appizzativo. Ah, sei loco quindi ora? Sì, sei loco. Ok, delle personalità multiple. Quello è un pezzo di bulldozer, vedi, non perderlo perché ti puoi diventare importanza. Vabbè, io vado a vedere il piano sopra, tu vuoi vedere il piano sotto, fai qualcosa di utile per favore, almeno... Ah, perché c'è anche meno sotto qua. Boh, ci sono delle scale che vanno giù, penso che partino da qualche parte, quantomeno. Dico, ho perso le gambe. Non fa... Te le si... Vabbè, ok. Non farti vedere comunque. Ho perso le gambe del coso. Ho trovato un pezzo? Come hai perso le gambe? Ho perso le gambe del bulldozer. Loco. Dimmi che è uno scherzo. Mi sei che l'ho perso il secondo piano. Dimmi che è uno scherzo. Eccolo il terzo, l'ho visto. Ah, no, quella è una botola. In questa tu puoi entrare e praticamente sgattaglioli via. Eccolo qua. Guarda, ho visto, te l'ho detto. Dammi il pezzo, dammi due pezzi che hai. Ma c'è un problema, Nico. Cosa? Non ho più le gambe. Dove le hai buttate? Dove le hai nascoste? Cioè, pieno terra, non so dove sono, da qualche parte. Ma le hai davvero buttate? Sì, per sbaglio l'ho fatto. Ma dove le hai buttate? L'ho fatto per sbaglio, per dove? Ma dove? Non lo so. Non so dove è il coiuto. Io guardo. Cosa ho combinato? Io non ho parole. Io non ho parole. Dove hai finito? Io non ho parole. Ma io mi chiedo, tu sei la spalla, praticamente. Allora, dobbiamo riempire di... In realtà sapevo dove. No, non abbiamo il carburante. Dobbiamo riempirlo. Dobbiamo andare nel sports car, nel garage, quindi tipo. Caburante in garage, sì, in garage. Adesso, praticamente, metti questo. Metti dentro la benzina. Ok, se... Loco. Ah, ma ho fatto casino! Non devi metterlo qua, Nico. Non lo metto sopra. E... Ci penso io, guarda. Basta fare così, così, così. No. Ok. Nico, stai distruggendo la casa. Tranquillo. Il bar e basta. No, ma tranquillo. L'assicurazione copre tutto. Guarda, tu per niente vieni qui e qui abbiamo tutto il cavo. E tutti questi diamanti ora li devi prendere perché siamo in grado, grazie a questi, di comprare delle cose dal signore che hai visto prima. Quindi io mi diverto un pochettino e tu prendi i diamanti. Loco, hai preso tutti i diamanti, vero? Sì. Mi direi che è meglio scappare perché qui il bulldog si è bloccato. Allora, scappa. Vieni qua. Premi questa porta e scappa insieme a me. Ok. Benissimo. Quanti diamanti sei riuscito a racimolare? Troppo ameli tutti. Quelli non... Sono diamanti. Ecco te. Puoi lanciarli tutti in un call. Quelli non sono... Allora, tiè. Questo tipo, grazie a questi blocchi di diamante ci permette di comprare questi bellissimi lingotti. Con questo sta che sei. Possiamo comprarci un piccolo gadget e come piccolo gadget io direi di utilizzare... Cosa vuoi? Un dinosauro o un drago? O un elicotto? Drago, drago, drago. O un drago, 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 drago. Bene, te ne compro una anche per te. Tieni qua. Dove sei? Dietro di te. Tieni, Steve. Questo è un drago. Drago. Un'era molto bene. Allora, andiamo. Può scegliere un'altra base? Non puoi piazzarlo qui. Which is out. Ah, ok. Attenzio. È quella la lontana. Molto bene. Nuota per entrare. Quindi dobbiamo semplicemente fare... Così? Non è che ci sono gli squali, robe strane, tipo, no? Muoviti, si muova, si muova. Devi nuotare. Loco, tranquillo. Lo so che sai nuotare. Basta che... Oh, mio Dio, sta annegando. Vieni qui. Vieni. Guarda. Vieni qui. Basta che... È abbastanza imbarazzante. Non dobbiamo andare qua, loco. Voilà. Cosa c'è qui? Dobbiamo prendere qualcosa da qui dentro. Uh, uh. Diamond Dust. Ok. Qua c'è anche un calderone. Devo riempirlo con dell'acqua. Ok. Droppare della polvere di diamante dentro. Scusa. Ahia! Puoi toglierti. Ma che cazzo? L'In Diamond Mento di... Da, nico, dammi il drago. Nico, dammi il drago. Nico, dammi il drago. Ah, tieni il drago. Spaccalo, spaccalo, spaccalo. Ma questo è il nostro amico. Vieni. Vieni. Dobbiamo portarlo qua. Sì, c'è scritto di portarlo fino al cannone. Vieni con... Ma mi segue? Non segue me. Eh, vieni con me. Guarda che inquietante quel coso. Ti prego, muoviti. Comunque, lo voglio chiamare Felice Cagata. Ok. Mi piace. Vabbè, portalo qua al cannone che forse è meglio. Muoviti. Vai. Entra nel cannone. Deve spararlo? Deve... Devo andare fino... Ah, c'è aperto il cavù. Vieni. Corri. Corri. Devo spaccalare la mia mano. Felice Cagata. Ma basta. Ciao. Però, effettivamente è molto felice. Raccogliamo tutto questo schifo. Muoviti. No, quello sicuramente mi sono stancato. Cosa stai facendo? Ma che mi sono stancato di aspettare. Quindi nel senso... Perché anche la casa di Franco stai distruggendo? Ma senti, a me di Franco interessa bene poco. E Franco ha lavorato tantissimo. Adesso a lavorare. Si è fatto il mazzo per potersi comprare una casa del genere. Tu la stai distruggendo così? Guarda che intanto anche il tuo amico Felice qui, che adesso lo investo, ha spaccato la porta. Ti vorrei ricordare. Ma poi è solo un bulldozer. Cosa vuoi che sia? Posso riprenderlo? Vabbè, rimarrà qua il bulldozer. Prendiamoci questi diamanti e andiamocene. Me ne compro tre di bulldozer adesso. Escape. Let's go. Vediamo quanti ne posso comprare. Sti bulldozer, mamma mia, me li puoi inventare. Adesso te lo giuro. Allora, cosa preferisci tra dinosauri e draghi? Puoi scegliere. Drago. Drago. Vabbè, abbiamo prima del signor Drago. Allora, caricando il livello... Non c'è il drago, dove è il drago? Non c'è, dove è il drago? Dove è il drago? Allora, allora, allora. Dobbiamo trovare l'uovo di drago. Anche se in realtà queste cose gialle penso che siano abbastanza facili da capire che si trova... Vabbè, non c'è l'uovo di drago. Non c'è, devo farlo schiudere. Mico, non funziona. Sì, cosa non funziona? L'ho comprato. No, che peccato. Aia! Allena all'uccidere le mucche. Ok, da questa parte signor. Di una macchina. Dai un nome, dai un nome. No, la macchina non gliela puoi dare. Dagli un nome intanto. Draghetto Furetto. Non mi piace. La macchina la puoi usare nel momento in cui la sblocchiamo oppure nella tua casa. Però, cioè, nel senso a me non interessa andare a casa tua, sinceramente. Ma Furetto è un po' comunque... Mordicchio. Bravo! Mordicchio. Mordicchio, però è quello di Dragon Trainer. Ha il copyright. Sei un copione, loco. Che è Mordicchio, scusa? È il draghetto. Vabbè. Ah, no, è sdentato quello. È sdentato? Che è Mordicchio? Forse c'è anche Mordicchio. Mordicchio è un personaggio di essere animato a Futurama. Ah, è vero! Ma cosa? È cresciuto in ultime... Non posso usarlo. Aspetta, forse posso fatene nascere uno io. Aspetta. Vabbè, tu intanto addestrati un altro drago, eh. Non ti preoccupare. Io intanto vado a rubare ciò che posso rubare. Puoi volare, per favore. Ehi! Vola! Devo collezionare queste Dragon Essence. Ma non funziona molto bene questo. Loco, il mio drago è attratto dalle tue mucche. Puoi, per favore, smetterla? No, quello è Mordicchio 1. E' attratto dalle mucche. Mordicchio 2 è con il Mordicchio 3. Si muove da solo, ragazzi, va bene. Ok, sei calmo, Mordicchio... Che numero è il mio? Uno. Uno. Vabbè, che devo fare con questi cosi qua? Devo volarci dentro, tipo... Loco, puoi fare qualcosa di utile invece che giocare con i Mordicchi, per favore? Non voglio Mordicchi! Non voglio stare con te questi draghi, voglio stare soltanto con me. Vieni che dobbiamo rubare questi chiavoli di diamanti. Vado ad esplorare il mondo. Oh, è cresciuto il mio drago. E se vuoi ce n'è uno, che è per te. Ti piace? E' bellissimo, Mordicchio 4. Big Lab Dragon to escape. Vuol dire che il mio drago spacca i muri? Il nostro drago. Oh, è bellissimo. Mordicchio, sali, Mordicchio, sali, sali. Dove, dove? Sto morendo. E non lo so, sono dentro una torre che è piena di diamanti. Oh, l'anus, bulldozer di fiducia. E' torna... Ma quanti ne hai fatti di Mordicchi, scusa? È Mordicchio 2, Mordicchio 3, poi non mi coducchi a questo. Non l'avevi parcheggiato, scusa? Ho parcheggiato, poi l'ho ripreso. Ma perché? Guarda che c'è il bulldozer che scava molto, ma... Dove sono finito? Vabbè, sono finito. E che scava, meglio, scusa? Vabbè, già che c'è... No, sì, si scava, tranquillo. Prendi anche gli amanti. Io intanto spacco a casa di... Tu sei il Mordicchio. Il grande Mordicchio. Vabbè, io direi che possiamo tornarcene a casa da questo castello. Oh, che bello. Mi dica che cosa vuole fare. Vuole giocare con i palloncini, con i dinosauri, con un negozio di gioielleria. Nico, ma non vuoi i miei diamanti? No, un pochettino. No, andiamo a rubare un gioielleria. Andiamo qui. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Sì, si sta caricando. Nico, ti regalo una cosa. Sembra che cosa mi... Oh. Siamo nel cotico. Dobbiamo... Ah! Non so guidarlo molto bene. È un idiota. È che non lo so guidare molto bene. Aspetta che adesso mo' torno su, eh. Ci vuole un pochino perché non è molto facile guidare questo cusso. Interagisci con il ki-pipe. Oh, dobbiamo accarare qualcosa. Vieni, andiamo a cercare qualcosa da accarare. Nico, tieni, ti do un po' di cose intanto se vuoi. Che cosa... Cioè, cosa hai trovato? Uno stack. Ah, grazie. Molto gentile. Prego. Qui, Nico. Nico, 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 Nico. Lo sto creando. Guarda, ok, ho messo il telefono. Sentiamo queste cose. Oh mio Dio. Eh, me le sentite lupente. Lupo i diamanti dalla gioielleria. O comunque gioielli della gioielleria. Hai trovato? Sì, sì, sì. Sono ovunque, Nico. Eh, ma questo secondo me non vale nulla, scusa. Secondo me c'è dell'altro, secondo me. Vieni qua, vieni con me. Io ti dico che questa gioielleria l'ho già vista sul mercato. Vieni con me. Secondo me nella zona banconi ci sono delle cose molto interessanti. Non è che c'hai già rubato in questa gioielleria? Secondo me... Cioè, la che non c'è troppo bene i primi gusti. No, è che c'è mio zio che praticamente una volta... No, meglio che non te lo dico. Lascia stare, guarda. Mio zio mi ha sempre detto di non fidarmi delle gioiellerie. Sì, perché... Le gioiellerie vengono rubate. Sì, il problema è che ho mosso queste guardie. Voglio dire un ladro. Ah, ok, questa cosa... Puoi spaccare il rubato tutto? Come, 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 con cosa? Spacca col piccone. Queste guardie sono stupide, però non c'è standata a cà. Vabbè, io non... Ahia, stavo scherzando. Ma sono one shot? Ma siete anche tu one shot? Ah, stupidi. Hai rubato tutti i gioielli? Ecco perché mi dirò così bravo a fare il ladro. Uh, guarda qua quanti. Vieni con me. Vieni con me. Tanto so stupidi. Spacca tutto, fermo, 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 fermo. Non facciamo lo stealth. Spacca tutto. Nico, finati. Fermati, fermati, Nico. Scusa, non ce la faccio. Giugliele, che cosa hai visto? Tu non mi hai visto. Ok. Cosa stai facendo? Non funziona. Mi stai... Non funzioni più, mi hai rotto. Fammi rubare tutto. Vabbè, ma gli shot tutti, ma quanto sei forte. Qua c'è qualcos'altro da rubare. No, ho fatto anni, anni di palestra, Nico. Ti sembra normale che questi devono essere dei guardi che fanno il bagnetto nella piscina? A me non è... Uh, altri diamanti qua, altri gioielli. Grazie mille. Direi che possiamo scapparcene. Abbiamo fatto tutto qui. Ah, ma... Ebbe un elicottero. C'era... Trago. Trago. No, la... La porta era aperta. Loco, è arrivato il tuo giorno preferito. Ti porto al parco. Vuoi venire? A palloncini. Il parco, sì, ti compro i palloncini. I palloncini sono la mia cosa preferita. Eh, sì, sì, sì. Io amo i palloncini. Andiamo a comprare i palloncini. Non ci sono palloncini qua. Eh, adesso non ti preoccupare che... Non ci sono palloncini qua. Non ci sono palloncini qua. Ok, i palloncini, praticamente... Vabbè, se non altro, hai capito come funzionano i palloncini. Guarda, uno, due, tre... Cos'hai rotto? Un diamante della gioielleria? Ho sentito il rumor della gioielleria? No, cosa... Sono morto. Come sei morto? Ah, non devi toccare le cose, forse. Ok, così ho slow falling. Devo andare da questa parte, presuppongo. Guarda che si vede che non sei un ladro, comunque. Si vede che non hai la stoffa che ho invece io. Vado da questa parte. È tipo un droppero al contrario, quindi. Bello. Anche tuo zio era un ladro? No, mio zio non era un ladro. Era uno di quelli che vendeva i palloncini. Oh, ma dove cavolo siamo veniti? Sei arrivato qua finalmente, non lo so. La cucinella, Nico. Sì, la cucina. Tu guarda la cucina, lì vado a prendere i miei diamanti. La cucina non mi interessa letteralmente nulla, però... Tu sei diamanti? No, non lo so. Non ne ho idea, te lo dico. Secondo me dovresti cercare dentro la cucina, là. Qua, salto della fede. Deve andare giù, credo. Sì. Hai toccato la superficie? Sì, sì, sì. Guarda che non l'ho mai toccata. Cioè, ti rendi conto di quanto potrei fare il ladro di diamanti con i palloncini? Pronto, pulzia? Sì, l'ho trovato. No, mi dissocio, ovviamente. Non è vero, io non faccio queste cose. Ah, vai, quel paese tuo, il palloncino. No. Cosa? Mi è esploso il palloncino. Sono morto. Ah, sì, sì. Ma l'hai gufata. Vabbè, io ne approfitto e qua cammino sinceramente, non mi interessa. Finché posso camminare. Vai, let's go. Let's go. Ma qua si può camminare dappertutto. Ma ancora? Ancora più in su si va. Ma dove ne nasconde diamanti sto tipo? Ma perché te devi fare tutte queste cose? Ma anche me l'ha fatto fare il ladro. Ve lo fa l'imprenditore, io. Vabbè, dove siamo? Ancora più in alto? Dobbiamo andare? Dove... Ah, eccoli! Dimmi che almeno sono tanti, perché se so dieci ti giuro che mi metto a piangere. Oh, sono pochi. Poi me ne vado a fare un giro nel cielo. Voglio essere libero come un palloncino. No, non andare in cielo. No, guarda che poi è un casino, eh. Il sole scotta, brucia. Ti ricordi la cosa di Dedalo e Icaro lì? Non mi ricordo del... Dedalo e Icaro. Il labirinto. C'era, si sciò. Bruci! Vabbè, comunque, io sinceramente, non so te, ma avevo comprato un sacco di robe e me le ho lasciate in giro per il mondo. Però va bene lo stesso. Però voglio... Vieni qua, ti voglio sfoggiare il mio... Ah, ecco dove sono tutti i diamanti. Ecco dove erano. Sì, comunque, guarda, se fai così... Sono ricco. ...per far nascere il tuo peccolo traghetto. Mordicchio! Mordicchio è il mio. Il tuo era mordicchio ottavo, un po' che se lo ricorda. Comunque, per oggi, io direi che è tutto. Siamo riusciti a rubare un sacco di diamanti da queste case, di questi minerdari con draghi, dinosauri, palloncini e Lamborghini. Anche delle Lamborghini. Posso salire? Andiamo. Vai, andiamo. Facciamo l'entro del Lamborghini, l'altro. E nulla. Noi ci vediamo comunque domani con un nuovissimo video. Se anche volete una Lamborghini, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un mi piace, che è importantissimo. Niente, il video finisce con noi che moriamo schiantati contro un albero. Sì, buon Natale a tutti. E felice anno nuovo.